Oddio, biscotti! Qual è? I tre da 3.000 e passa, da 4.000! Il posto migliore? Varesi? Anzi no, la comaggiaore, in Gera, scusate! Un bel ragazzo, oddio, qualsiasi più forte di me, aspetto fisico, lo scalmo e sei nuova, ero contenta, vai più forte che puoi e finisce prima. Un bel ragazzo, oddio, qualsiasi più forte di me, aspetto fisico, lo scalmo e sei nuova, ero contenta, vai più forte che puoi e finisce prima.